Ecco, ora faremo una passeggiata che ci porterà da qui, in questa zona del porto, dove poi dall'alto vediamo San Ciriaco, ci porterà verso Corso Stamira e quindi andremo a fare tutto il corso fino alla piazza principale. Ecco, vediamo in lontananza l'arco di Traiano. Ecco, qui siamo in piazza Kennedy, dove comincia il corso. Qui vediamo quindi Corso Stamira, poi andiamo verso Corso Garibaldi, che invece è il corso principale, che si trova parallelo a questo Corso Stamira. Ecco, qui di fronte vediamo Corso Garibaldi, che è l'isola pedonale, in questa zona invece possono transitare poi le autovetture. Ecco, qui vediamo poi la via che porta al porto, qui di fronte abbiamo il teatro. Adesso percorremo il corso. Fino ad arrivare in piazza di Giazza. Ecco, qui vediamo. Ecco, proseguiamo ancora. Grazie. Ecco, passeggiando tra i vari mercatini natalizi, siamo quasi arrivati in piazza, anche qui vediamo tutti questi mercatini che sono distribuiti lungo Corso Garibaldi. Ed ecco, ci siamo arrivati nella piazza principale, che è piazza Gavur, vediamo la statua di Camillo Penso che si trova proprio al centro. Per questa festa natalizia ci abbiamo anche la ruota e altri numerosi mercatini. qui possiamo vedere tutta la via Garibaldi. Poi ci sono i portici, tutti i portici qua di fianco. Ecco, qui abbiamo una pista di pattinaggio montata per l'occasione per questo periodo invernale. Ecco, qui siamo alla parte finale della piazza, proprio sotto i portici, dove incomincia un altro corso, che è il corso Giuseppe Mazzini, che poi è parallelo al corso Garibaldi. Lo vediamo qui. Ecco, qui ci sono le fermate degli autobus. Grazie. 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 Grazie.